Si riparte da questa bomboniera per il battesimo della piccola Fatima a giugno. Così il settore cerimonia, dopo il blocco totale a causa della pandemia da coronavirus, riprende lentamente il percorso lavorativo. A Lanciano, Elisabetta Gaeta, esercente wedding planner, durante la fase del lockdown ha diversificato attività e merceologia con abbigliamento e accessori moda, vendendo anche online, in attesa della riapertura al pubblico. Per quanto riguarda il settore cerimonia, possiamo dire che c'è una lieve ripresa. Anche solo per curiosità c'è qualcuno, qualche cliente, che viene comunque a vedere. Anche per comunioni che non sono ancora definite a livello di data, però c'è la voglia da parte delle persone di andare avanti. E infatti noi la prima cerimonia dopo il lockdown, che è molto bello, sarà appunto quella di un battesimo, quindi proprio un segno di rinascita. Per il resto, come attività, abbiamo preferito puntare su un'altra tipologia di prodotti che abbiamo già introdotto l'anno scorso, cioè gli abiti di Positano, la bigiotteria. Quest'anno abbiamo introdotto anche delle borse. E abbiamo preferito, diciamo, puntare su altre forme di vendita, ricorrendo anche a delle vendite online, tramite i social. Io, ad esempio, sto implementando un sito e-commerce, e poi mi sono iscritta ad una piattaforma del Sangroaventino e l'ho trovata un'idea innovativa e geniale, proprio da sfruttare in questo particolare momento. Ma il nuovo oggetto del desiderio è lei, la mascherina. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Non sono presidi sanitari, viene specificato, ma mascherine di comunità. Ce ne sono in cotone, lavabili più volte e con la scadenza, colorate, a fantasia, in paillette, modello Chanel e addirittura in seta e con pizzo. All'obbligo, per sicurezza personale e degli altri, si affianca oggi il Glamour. Ce chi ne compra da abbinare a maglie, scarpe, borse, insomma, un vero e proprio accessorio moda.